è finita per voi, è finita, adesso è finita dovete confissare a me tutto quello che facete in questa casa a me soltanto che sono il capo brando e basta ma che stai mai scherzando qua? ma perché suonate signorino, siamo tutti qui ma perché venisci fuori di mezzo tu? guardate là, è tuo questo qua no signorino e di chi è? suo signorino eh che bravo, io allora me lo suono e me lo sento come me fa le schiacciate non lo so non lo so, non lo so, non lo so non lo so, non lo so, non lo so ma ti vuoi arruinare la carriera, ti vuoi arruinare? te la vuoi arruinare? se non ti interrogo tu non devi rispondere hai capito? se non ti interrogo tu non devi rispondere anzi senti la cosa, ma non mi piace ecco ci ho fatto l'adunanza e qua c'è un motivo un motivo c'è ci sarà la democrazia la democrazia questa parola questa parola affatata questa parola illuminata questa questa parola di luce la democrazia questo lambadario di parola la democrazia che cos'è? eh non è vero non è vero non è vero che voi adesso dicete la democrazia la democrazia questa gente con tanto di barba che parla i barboni che parla questa democrazia che voi adesso dicete ma tu perché stai lì e voi eeeh no miei cari no 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 la democrazia è che voi siete lavoratori e dovete lavorare io sono il datore di lavoro e il datore di lavoro se non c'è il lavoratore il lavoro a chi lo dà? così come il lavoratore se non c'è il datore di lavoro il lavoro da chi lo dà? la democrazia la democrazia che cos'è? la democrazia se voi vi tenete la roba vostra lasciate stare la mia perché se no è peggio per voi questa è la democrazia